Oggi seconda e ultima giornata del Consiglio UE, Giorgia Meloni, l'Italia può dirsi molto soddisfatta a cambio di passo sui migranti, la battaglia sui biocarburanti non è persa. Torna a crescere il mercato del lavoro nel primo bimestre dell'anno, 100.000 nuovi posti trainano i servizi, un quinto delle assunzioni nel settore del turismo. PNRR, fitto incontra a Gentiloni, terza rata da 19 miliardi a rischio, finora raggiunti solo 5 dei 13 target previsti entro marzo, progetti infrastrutture e mobilità sostenibile in regola, la Corte dei Conti speso solo il 6% dei fondi. Governo al lavoro sul nuovo decreto bollette da 5 miliardi, Giorgetti da aprile IVA al 5% sul gas, da ottobre allo studio il bonus riscaldamento. Lancette dell'orologio avanti di un'ora, domenica prossima, con l'ora legale, in sette mesi un risparmio di 220 milioni di euro e 200.000 tonnellate in meno di CO2. Buonasera, si sono conclusi oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio UE, l'Italia può dirsi molto soddisfatta delle conclusioni del Vertice, ha dichiarato nel pomeriggio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha evidenziato il cambio di passo dell'Unione sulla questione migratoria, portando inoltre l'attenzione sul dossier Tunisia. Rischiamo 900.000 arrivi, l'allarme lanciato dalla Premier. Tra i temi affrontati oggi anche l'Unione bancaria, il MES, il PNRR e la transizione green dell'automotive. Abbiamo vinto la battaglia sulla neutralità tecnologica, ha dichiarato la Meloni, e stiamo dimostrando come anche i biocarburanti rispettino le emissioni zero. Se una tecnologia risponde ai target fissati, allora può essere utilizzata. La giornata di ieri si è invece conclusa con un lungo faccia a faccia tra la Premier e il Presidente francese Emmanuel Macron, che ha di fatto segnato il disgelo tra i due leader dopo le tensioni scoppiate nei mesi scorsi sulla vicenda migranti. Facciamo il punto su quanto è accaduto ieri con il prossimo servizio. Al termine della prima giornata del Consiglio europeo, per la quale Giorgia Meloni si dice soddisfatta, arriva il faccia a faccia in un noto albergo nel centro di Bruxelles tra la Premier italiana e il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo ufficiale, dopo i due colloqui informali di Roma e Sharm el-Sheikh, necessario per sciogliere tensioni e incomprensioni. Con Parigi avvolta nella guerriglia, Macron ha bisogno di sponde sui suoi temi europei, il nucleare, la risposta comune alle migrazioni, un fondo ad hoc per le tecnologie pulite e il rilancio della competitività dell'Unione. L'incontro con Macron arriva al termine di una serpentina di dibattiti tra Ucraina, piano net zero, patto di stabilità, energia e migranti. Non è un vertice facile per nessuno perché si pone come una sorta di primo tempo di una partita che si concluderà a fine giugno con la possibilità di un summit straordinario a maggio. La Premier arriva all'Europa Building con un triplice obiettivo, mantenere il punto fortemente critico sull'eccessiva ideologizzazione del Green Deal, difendersi dai falchi sulla riforma del patto di stabilità, che sarà partorita solo ad aprile, e rilanciare la battaglia sui migranti. E su due di queste tre battaglie la sponda di Parigi per l'Italia è imprenscindibile. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, rimarca l'apprezzamento per l'accelerazione impressa al dossier migranti e dà appuntamento al Consiglio europeo di giugno, dove i leader dovranno fare i conti anche con le garanzie umanitarie che potrà offrire la Libia, a chi sarà impedito di partire. La roadmap del PNRR indica tempi rigidi, ma l'Italia sembra in ritardo. L'erogazione dei fondi del 2022 è ancora ferma e sulla spesa del 2023 siamo in affanno. Il richiamo arriva dalla Corte dei Conti, stando alla relazione dei giudici contabili. Sullo stato di avanzamento della spesa emerge che è stato utilizzato solo il 6% dei fondi, realizzato solo lo 0,5% degli obiettivi nel settore della salute, 1,2% per l'inclusione e il 4,1% nella scuola. Dei 13 target previsti entro fine marzo, solo 5 sarebbero stati raggiunti. Tra i nodi principali il nuovo codice sugli appalti e la questione balneari. In controtendenza invece le spese relative alla missione 3, relativa alle infrastrutture per la mobilità sostenibile, dove si è speso il 16,4% di quanto a disposizione. Il ministro per gli affari europei, il Sud, delle politiche di coesione, il PNRR, Raffaele Fitto, chiede più flessibilità a Bruxelles e fa leva sul commissario UE all'economia, Paolo Gentiloni, per sbloccare la terza rata legata agli obiettivi conclusi nel 2022 e rivedere il programma iniziale che alla luce delle dinamiche macroeconomiche non sarebbe più attuabile. Ma proprio sugli investimenti infrastrutturali per l'intermodalità si è espresso ai nostri microfoni il vice ministro al MIT Edoardo Rixi. Ancora molte sono le carenze, in particolare per quanto riguarda i collegamenti sul ferro e sull'ultimo miglio. Noi abbiamo troppi porti ancora che non hanno capacità ferroviaria adeguata, ad esempio oltre che problemi a livello viabilità anche stradale e autostradale. Io sono tornato da poco anche dal porto d'Ancone, è uno degli esempi su cui bisogna assolutamente lavorare, ma anche porti molto più importanti. Oggi la capacità ferroviaria anche nei grandi scali è molto limitata. Noi dobbiamo guardare a un aumento del traffico mondiale che non può scaricarsi solo sulle strade e sull'autostrada perché spesso sono quasi al collasso, la saturazione in alcuni snodi. È evidente che se noi riusciamo a collegare i nostri porti a degli interporti e a una possibilità di fare shift intermodale in maniera efficiente e fluida, questo vuol dire recuperare competitività. E poi c'è il grande tema, il collegamento delle grandi dorsali europee che devono essere completate e accelerate anche con appalti paralleli perché purtroppo questo paese è in ritardo, negli ultimi vent'anni non ha avuto una capacità pianificatoria, sono nati una marea anche di interporti e stanno nascendo quando bisogna cercare di trovare un modo per andare a indirizzare anche gli investimenti privati. Altrimenti rischiamo di cannibalizzare i nostri stessi investimenti e di moltiplicare un numero di opere che invece se gli stessi soldi fossero utilizzati in maniera razionale porterebbero un aumento considerevole della nostra capacità logistica e soprattutto della capacità ferroviaria. Intanto il governo è al lavoro su un nuovo decreto da 5 miliardi contro il caro Bollette. Nonostante il recente calo dei prezzi energetici, l'esecutivo si prepara dunque a garantire un sostegno a famiglie e imprese anche oltre il 31 marzo, data in cui scadranno gli sconti previsti dalla legge di bilancio. Per il secondo trimestre dell'anno dovrebbe essere confermata alliva il 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un'isee sotto i 15 mila euro. Ad anticiparlo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il quale ha inoltre spiegato che per le imprese sarà prevista una rimodulazione dei crediti di imposta che terrà conto dell'andamento dei prezzi del gas. Il provvedimento, atteso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, prevederebbe inoltre un sistema premiale per coloro che tengono sotto controllo i propri consumi in linea anche con la rotta indicata dall'Europa. Tra le novità annunciate da Giorgetti anche un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che sarà erogato da ottobre ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica. E se c'è ottimismo sull'andamento del prezzo del gas segna invece un significativo aumento il costo dell'acqua. Bolletta dell'acqua sempre più cara. È salita a 487 euro la spesa media famiglia nel 2022 con un balzo del 5,5% in un anno e in crescita in tutti i capoluoghi di provincia ad eccezione di Forlicesena dove è scesa dello 0,6%. Il calcolo arriva dall'osservatorio prezzi e tariffi di cittadinanza attiva in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Bolletta peraltro che per molte famiglie risulta incomprensibile dice l'Istat. E l'Italia si conferma in vetta in Europa per i consumi. La media europea è di 120 litri per persona al giorno e quella italiana sfiora il doppio a 236 litri calcola l'osservatorio. In tempi di siccità non solo servirebbe risparmiare sull'uso dell'acqua ma anche intervenire contro le perdite che in fase di distribuzione raggiungono il 42,2% dell'acqua immessa in rete nel nostro paese con punte del 62% in Basilicata. Secondo l'Istat il volume di acqua disperso nel 2020 avrebbe soddisfatto le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno. I dati disastrosi della rete idrica Colabrodo sono all'attenzione delle corti dei conti regionali dove il Codacons ha denunciato tutte le omissioni da parte degli enti locali. Le perdite di rete nelle regioni del sud sono di circa il 47% contro il 31% nel nord-ovest. Torna a crescere l'occupazione in Italia. Secondo l'ultimo rapporto congiunto tra Banca Italia, Ministero del Lavoro e Ampal nel primo bimestre del 2023 sarebbero stati creati oltre 100.000 posti al netto delle cessazioni. Un incremento che è stato di circa il 30% se paragonato con le cifre dello stesso periodo del 2019. Stabili sia i contratti a termine che le trasformazioni a sostenere l'incremento soprattutto il manifatturiero e il terziario con il comparto del turismo che ha registrato 22.000 posti di lavoro in più, dunque un quinto del totale. I dati sull'occupazione dunque lasciano ben sperare ma fanno da controparte a cifre ben meno rassicuranti. Quasi due terzi delle pensioni erogate in Italia ad esclusione di quelle dei dipendenti pubblici sono inferiori a 1.000 euro. Il dato arriva dall'osservatorio dell'Inps che precisa comunque come ciò riguardi le prestazioni singole e non il reddito da pensione dei percettori che spesso godono di più trattamenti. Nel complesso quelle vigenti a inizio 2023 per dipendenti privati, autonomi e le prestazioni assistenziali sono oltre 17,7 milioni per 231 miliardi di spesa. Il 77,2% di natura previdenziale e il 22,8% di natura assistenziale. Quelle inferiore a 1.000 euro al mese nel complesso sono 11 milioni e mezzo, 9,8 milioni sono inferiori a 750 euro. Nel 2022 sono state liquidate oltre 1.350.000 nuove pensioni, il 46,5% delle quali di natura assistenziale. L'età media alla decorrenza complessiva è aumentata di oltre 4 anni tra il 2003 e il 2022 passando da 62,3 a 66,9. Se si guarda l'età di vecchiaia all'uscita è passata invece da 59,8 a 64,4 anni, mentre quella dei superstiti è passata da 70,4 a 74,7. L'Inps segnala infine la maggiore incidenza delle pensioni previdenziali al nord e di quelle assistenziali al sud. Non c'è pace per le borse europee che chiudono la settimana in rosso sui timori degli investitori riguardo la stabilità del sistema finanziario e con le vendite che oggi hanno colpito in particolare la Deutsche Bank. In forte flessione anche i rendimenti dei titoli di Stato con Piazza Fari che ha perso circa due punti. Ed è stata inoltre letta come un segnale di incertezza, l'assenza al Consiglio UE di una conferenza stampa al termine del confronto sulla situazione economica e finanziaria dell'Eurozona con la Presidente della BCE, Christine Lagarde. In un momento geopolitico condizionato dalla guerra e in cui le politiche monetarie severe rendono le famiglie più incerte e le banche più selettive nell'erogazione dei mutui, la Casa, così come loro, si conferma il bene rifugio per eccellenza per gli italiani. A dirlo l'osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma. Colpisce duramente la pandemia, imperversa la guerra in Ucraina, i mercati finanziari vivono pericolosamente sull'otto volante e gli italiani si rifugiano come sempre nel mattone. E in un momento di particolare turbolenza su tutte le borse mondiali come quello attuale, al di là dei confini nazionali, prende sempre più piede anche la corsa all'altro bene rifugio per eccellenza, l'oro. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, la tradizionale propensione tutta italiana per l'acquisto di case è tornata a farsi sentire con forza nell'ultimo anno, tanto che i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 3,8%, mettendo a segno il più grosso incremento da inizio 2010. Secondo i dati dell'Istat sul mercato immobiliare, nonostante nel 2022 le quotazioni delle case siano diminuite del 9,5%, più 14,2% per quelle nuove e meno 17,1% per le esistenti, proseguono tuttavia i rincari per il terzo anno consecutivo dopo l'incremento dell'1,9% nel 2020 e del 2,5% nel 2021, con i prezzi delle abitazioni nuove che lo scorso anno sono saliti del 6,1% e quelli delle abitazioni esistenti che hanno fatto registrare un più 3,4%. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, avverte che purtroppo si tratta di un dato destinato a peggiorare, perché, spiega, il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla BCE, facendo salire il costo dei mutui, produrrà una drastica riduzione dei volumi di compravendita. Le quotazioni aumentano in tutte le città prese in esame dall'Istat, ma l'accelerazione si consolida in modo particolare nei grandi centri quali Torino, Roma e Milano. In particolare a Milano i prezzi delle abitazioni aumentano su base annua del 6,4%, in accelerazione rispetto al trimestre precedente, quando il rialzo era del 5,6%. Segue Torino, dove la crescita si attesta sul più 3,9%, in decelerazione dal più 6,1% del trimestre precedente, mentre a Roma si registra un rialzo tendenziale del più 2,8%, con un forte rallentamento per le abitazioni nuove, da più 6,4% a più 1,1%. In Commissione Finanza e il confronto sul decreto Superbonus trovata la convergenza su alcuni punti come la proroga dei termini entro i quali dovranno essere conclusi i lavori di adeguamento energetico delle villette unifamiliari. Restano ancora allo studio, invece questioni come lo sblocco dei crediti incagliati. Più tempo per il 110% sulle villette, mentre resta ancora da sciogliere il nodo dei crediti incagliati. Procede con Stop & Go in Commissione Finanza e alla Camera l'esame del decreto Superbonus, che, proprio per consentire a governo e maggioranza di trovare le ultime intese, approderà in aula qualche giorno più tardi del previsto il 29 marzo. Intanto il governo vaglia l'estensione dal 30 giugno, ipotesi sulla quale c'è già il via libera dell'esecutivo al 30 settembre, del termine per concludere la spesa e portarla in detrazione per le unifamiliari, per quanti abbiano concluso entro il 30 settembre scorso almeno il 30% dei lavori. Sui 19 miliardi di crediti incagliati nel frattempo, il governo è al lavoro e una soluzione dovrebbe arrivare tra venerdì e lunedì prossimo. Non sarebbe del tutto tramontata, secondo quanto viene riferito, l'ipotesi della compensazione attraverso lo strumento degli F24, che potrebbe venire utilizzata però solo a determinate condizioni. In passato, sul punto, Enrico Zanetti, consigliere del ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti aveva ipotizzato di utilizzarli solo a favore delle banche che abbiano assorbito davvero, in concreto con acquisti e non solo con impegni di acquisto, una porzione veramente rilevante della propria capacità fiscale potenziale. E non è escluso che questa possa essere la strada. Ci spostiamo ora in Ucraina, dove continua la battaglia per il controllo di Bakhmut. Nel mezzo delle polemiche sull'invio da parte di Londra di proiettili anticarro a base di uranio impoverito, Kiev si prepara alla controffensiva nel giorno in cui l'Ucraina ha ricevuto i primi jet da combattimento dalla Slovacchia. Kiev è pronta a lanciare una controffensiva per allontanare le truppe russe da Bakhmut nel Donbass, approfittando del fatto che esse sarebbero ormai stremate dopo mesi di assedio inconcludente. L'annuncio è stato fatto dal comandante delle forze di terra ucraine Oleksandr Arsilsky nel giorno in cui l'Ucraina ha ricevuto i primi jet da combattimento da un paese nato, 4 MiG-29 donati dalla Slovacchia, che ne dovrebbe consegnare 13 in tutto. L'arrivo dei caccia, peraltro antiquati e a terra da diversi mesi, ha provocato la reazione di Mosca. I paesi della NATO e dell'Unione Europea continuano il percorso verso l'escalation del conflitto, cercando di trascinarlo e di combattere fino all'ultimo ucraino, ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko. Polemiche anche dopo la notizia che Londra si appresta ad inviare all'Ucraina proiettili perforanti anticarro all'uranio impoverito. I paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un'armageddon nucleare, ha tonato l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. Proprio nella regione di Kherson, peraltro, si è recato in visita il presidente Volodymyr Zelensky dopo la missione sul fronte di Bakhmut. In prima linea, da parte russa, per la conquista di quest'ultima città, vi è la compagnia privata Wagner, che secondo l'agenzia americana Bloomberg sarebbe però pronta ad abbandonare la battaglia per i troppi contrasti con Mosca e a trasferire le sue forze in Africa, dove è già presente in diversi paesi. Eugenie Prigoshin, fondatore e capo del gruppo, ha subito smentito, fino a quando il nostro paese ha bisogno di noi, rimarremo a combattere in Ucraina. Rischia di aggravarsi ulteriormente la già spinosa questione del Brennero. Dallo scorso mercoledì, infatti, e fino a data da destinarsi, i treni sono costretti a viaggiare a prestazioni ridotte a causa della chiusura di tre binari ritenuti pericolanti. Una decisione che, arrivando a stretto giro rispetto alle già pesantissime limitazioni al transito di mezzi pesanti sull'autostrada del Brennero, introdotte da Vienna, rischia di mettere seriamente in discussione il futuro di molte aziende italiane. Sembra siano molte, infatti, le committenze nord-europee che stanno rinunciando ad approvvigionarsi nel nostro paese proprio a causa della dilatazione dei tempi di consegna provocata dalle decisioni austriache. Alla luce di questi dati resta, nelle intenzioni del governo, intervenire a livello comunitario chiedendo alla Commissione europea l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria per violazione delle norme sulla libera circolazione delle merci. Dal prossimo 30 marzo i cittadini italiani e britannici potranno riconoscere e convertire le loro patenti di guida nel paese di residenza, lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'accordo tra Italia e Regno Unito, pur risentendo di alcune peculiarità a causa della Brexit, mira ad abolire lunghe e complicate procedure. L'investimento ferroviario sarà importante per il futuro della portualità e dell'economia del nostro paese, lo ha affermato il Vice Ministro al MIT, Edoardo Rixi, in riferimento alle linee che il Dicastero metterà in campo nei prossimi mesi. Grazie al trasporto green e a nuove infrastrutture, il ferroviario cargo diventa trampolino di lancio per il futuro dello shipping con l'obiettivo di aumentare i volumi di traffico e garantire servizi efficienti e sostenibili al fine di concretizzare lo shift modale come richiesto dagli standard europei. Una nuova flessione agita le acque già torbide del mercato globale di container. secondo Drury, infatti, anche questa settimana i noli dei box da 40 piedi sono risultati in flessione, tradotta in una perdita congiunturale del 2%, che diventa dell'80% su base tendenziale. Male anche il traffico globale di TEU, che lascia a terra il 4% di container nel confronto tra 2021 e 2022. Veniamo ora in chiusura del nostro telegiornale al meteo. Dopo l'illusione di un'estate anticipata, da domenica torneranno correnti di aria fredda. L'instabilità sarà presente già nella giornata di domani, quando non mancheranno piogge sparse e i locali temporali sul versante adriatico. Domenica, tempo impeggioramento su tutte le regioni e calo delle temperature, con possibili nevicate su Alpi e Appennino. Infine, vi ricordiamo che domenica 26 marzo tornerà l'ora legale alle 2 di notte. Bisognerà spostare le lancette 60 minuti avanti. Un cambiamento nelle abitudini degli italiani che apporterà un beneficio ambientale ed economico nei prossimi 7 mesi. Infatti, l'Italia risparmierà circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica, con inoltre una riduzione di 200 mila tonnellate di emissioni di CO2. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'ascolto. Appuntamento a lunedì prossimo. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.